I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno denunciato tre partinicesi di 32, 37 e 17 anni per il reato di danneggiamento seguito da incendio. I militari dell'arma durante un servizio di perlustrazione notturno sono stati allertati dai vigili del fuoco per un'auto in fiamme, una Fiat Punto, nel centro abitato di Alcamo. Nella raggiungere il luogo dell'incendio i carabinieri hanno fermato un 32enne che correva con una tanica in mano in direzione di un veicolo parcheggiato poco distante con a bordo altre due persone. Dagli accertamenti svolti all'immediatezza i militari hanno sottoposto a sequestro un accendino ritrovato addosso al 32enne a seguito di perquisizione personale, constatando che la tanica conteneva ancora tracce di liquido infiammabile. Sono state così acquisite le immagini della videosorveglianza che avrebbero ripreso il 32enne mentre appiccava il fuoco all'autovettura.